ma non c'è lo posso ma è simpatico che è guarda guarda ma non c'è lo posso addorma poi va bello dove lo cerchiare perché non si vedono tanto no si è bloccata si sta pulendo mi guarda la testa mi guarda la testa mi guarda la testa a mia figlia sono l'otto dove lo vedi? là dentro oh papà maravucci c'è un piccione qui è un piccione Grazie.